Buonasera, ben ritrovati a Vita d'Atleta. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere ospite in studio Renato Pasini, ex campione del mondo di sci di fondo e attualmente allenatore in senno al Comitato Fisi Alpi Centrale. Grazie Renato. Buonasera a tutti, grazie a voi per l'ospitalità. E grazie a te per esserci venuto a trovare. Allora, ti trovi qua all'Ivignon questi giorni per? Sono qui con la squadra regionale delle Alpi Centrali, con i ragazzi dello sci di fondo, perché da due stagioni sono passato nella cerchia degli allenatori e ho la fortuna di poter seguire il Comitato Alpi Centrale insieme ad altri amici. e questi ragazzi ne abbiamo parecchi di Livigno e Livigno è un'ottima località per allenarsi, quindi abbiamo deciso di venire qua. Avete svolto un po' di tutto, dagli Schirol alla bicicletta? Sì, abbiamo focalizzato più che altro l'attenzione sullo Schirol, sfruttando la bellissima pista ciclabile che ci dà la tranquillità di avere i ragazzi sotto controllo e senza i rischi del traffico, anche perché sapete tutti che lo Schirol è vietato sulla strada, però comunque ci andiamo lo stesso sulla strada e però se abbiamo la possibilità di avere una pista ciclabile come qua bisogna sfruttarla. Quindi abbiamo focalizzato la maggior parte del lavoro sullo Schirol. Come non chiederti a questo punto se ci sono delle buone possibilità per i nostri ragazzi dell'Alta Valtellina? Sì, l'Alta Valtellina è sempre stata una fucina di campioni, anche perché per quanto riguarda l'uscita di fondo, le strutture, le piste, la neve, lo stelvio sono delle ottime opportunità per tirare su dei ragazzi forti. Infatti anche nella squadra del comitato abbiamo parecchi elementi sia dell'Alta Valtellina che di Livigno. Federazione è un po' in crisi da qualche anno, ci sono fondi comunque per aiutare questi giovani oppure vi sentite un po' abbandonati? Sì, ogni anno a cascata il CONI taglia per le squadre superiori e a cascata anche i comitati hanno sempre meno fondi però diciamo che la priorità del comitato olimpico è chiaramente il settore giovanile quindi pur tagliando però un po' di attività riusciamo a farla, chiaramente ogni anno sempre di meno e si cerca di andare avanti e ci mettiamo impegno e professionalità, poi chiaro, i ragazzi se loro sono contenti e si trovano bene significa che il lavoro va bene, i risultati anche, se avere a disposizione più fondi magari trovare qualche sponsor che entrano a far parte di questo mondo sarebbe vantaggioso. E questo era un preambolo doveroso per spiegare appunto la tua presenza qui a Livigno però vorremmo parlare un po' di te, della tua vita da atleta, sei stato un azzurro, anzi un campione del mondo a Saporone nel 2007 e hai avuto un inizio non dedicato prettamente agli cistretti insomma da piccolino non eri un fondista votato allo sci di fondo? Sì, diciamo che lì a casa mia io sono di Gromo e lì da noi le opportunità diciamo erano due o andavi allo sci club che è sempre stata un'associazione molto viva e molto presente nella vita sociale del paese oppure c'era il corpo musicale, la banda diciamo e chiaramente tutti noi gli amici andavano allo sci club e anch'io volevo andare allo sci club mio padre faceva sportivo, mi ha trasmesso la passione per lo sport, corse in montagna e sci di fondo quindi mi ha insegnato lui lo sci di fondo però sia io che mio fratello abbiamo avuto un'infanzia diciamo dai 6 ai 12 anni pur facendo sci di fondo con mio padre che ci ha insegnato e ci ha messo diciamo sugli sci abbiamo avuto un trascorso da sci alpino perché è sempre mio padre per diciamo per farci saltare la trafila delle gare giovanili, baby, cuccioli, ragazzi, quelle gare lì che secondo lui erano molto stressanti per il fisico, ha preferito farci fare le gare di sci alpino, facevamo le gare di slalom, gare CSI con una società di un paese di vicino e andavamo due volte a settimana col maestro di sci alpino la domenica la gara quindi abbiamo anche imparato lo sci alpino e è stato un vantaggio poi per le discese con gli sci da fondo A tal proposito dell'argomento di questi ragazzini che dai 6 anni fino ai 12 partecipano già a diverse gare durante la stagione tu che cosa ne pensi? Adesso che sei anche tecnico, pensi che si potrebbe attendere meno gare e più divertimento oppure prima si abituano alla fatica ed anche alla tensione di una gara meglio è? Diciamo che per abituarsi alla tensione della gara e all'approccio alla gara che è vantaggioso e è bene fare le gare se poi si riuscisse a fare un discorso di interdisciplinarità fino a una certa età sarebbe secondo me il massimo sia a livello di allenamenti che ho visto qui a Livigno un gruppo di ragazzi che lo faceva mi hanno detto che c'è un progetto che si chiama Multisport Multisport, se si riuscisse a fare un progetto così per quanto riguarda l'allenamento che quindi ti dà la possibilità di sviluppare tante attitudini dei ragazzi facendo diversi sport e allo stesso tempo dai la possibilità loro di imparare e provare tanti sport già quello è vantaggioso, se poi si riuscisse a fare che è molto più difficile anche a livello di competizioni sarebbe ancora meglio, chiaramente è quasi un'utopia pensare che un ragazzo possa fare la gara di fondo la gara di alpino, la gara di snowboard, cioè le domeniche con la neve sono contate però provare, cioè fare delle gare come nel mio caso che ho fatto le gare di sci alpino dove mi abituavo comunque alla tensione della gara, alla partenza, al riscaldamento, le fasi della gara di sci alla neve come nello sci di fondo, però diciamo che il fisico, il cuore, il motore veniva un po' preservato perché facendo la gara di sci alpino andavo a sviluppare altre attitudini poi è chiaro che anch'io magari il primo anno, a 12 anni, quando ho iniziato a fare gare di fondo rispetto ai miei amici che avevano già fatto 3 o 4 anni di gare in qualche altro ambito ero svantaggiato, perché è chiaro, però alla fine penso di avere tratto più vantaggio io facendolo sci alpino per quegli anni che gli altri a fare solo fondo Un piccolo passo avanti la federazione in questi ultimi anni l'ha fatto magari introducendo le gare di gincana questo vuole dire fare il fondo ma anche in maniera un po' diversa lo condividi? Sì, questo progetto glielo ho sempre condiviso già dall'inizio chiaramente è stato, diciamo, secondo me fatto anche perché l'evoluzione delle piste, dei tracciati, i gatti, le piste più belle, larghe così tiravano via un po' ai ragazzi la destrezza, la scioltezza che magari noi avevamo perché iniziavamo a sciare nei prati, nei boschi con le piste fatte d'ossi erano delle semi gincane e chiaramente io condivido questo progetto soprattutto per le categorie inferiori che sarebbero le categorie di cui parlavo prima che per quanto riguarda la mia infanzia io ho fatto nello sci alpino quindi baby, cuccioli poi man mano si sale la gincana viene trasformata magari nella gincana sprint e poi nelle gare, perché non possiamo far fare le gincane intesa proprio come gincana saltelli, ostacoli agli allievi che hanno 14-15 anni quindi bisogna cercare, infatti anche la federazione ha introdotto la gincana sprint che è un po' gincana e un po' gara normale sprint che sarebbe per le categorie un po' più, un po' superiori Torniamo alla tua carriera da sportivo Renato hai avuto il tuo esordio in Coppa del Mondo durante le finali di Coppa di Santa Catarina Valfurva Sì, me lo ricordo, me lo ricorderò per sempre perché ero nel gruppo sportivo Carabinieri siccome c'era la Coppa del Mondo in Italia c'era la possibilità di avere più posti e ho potuto partecipare mi ricorderò sempre che era un pursuit, un Gundersen c'era la tecnica classica il sabato e la domenica l'inseguimento uno dei miei idoli di quel periodo era Jevne che era un norvegese, un classico alternista che vinse la gara del sabato e io arrivai ultimo e il giorno dopo c'era l'inseguimento lui essendo un alternista non era partito noi eravamo tutti, sai, l'inseguimento partì nei vari, come si chiamano? nelle varie griglie e io essendo l'ultimo ero lì in griglia e Jevne che aveva vinto non era partito perché era un alternista e era lì davanti alle griglie che faceva il tifo, applaudiva quelli che partivano io pensavo ma starà lì anche quando parto io l'ultimo no, dicevo va via, va via invece è rimasto lì fin quando sono partito anch'io che ero l'ultimo e mi ha applaudito e per me è stata una bella esperienza certo, un bel ricordo dopodiché la tua carriera è decollata sì, diciamo che la mia carriera è decollata con l'avvento delle sprint perché io anche da junior quando ero junior io non c'erano le sprint però me la cavavo bene ho partecipato ai mondiali junior a livello italiano, ero tra i primi però il mio forte era sempre nella prima facevamo le 10 km le 15 mi ricordo anche un campionato italiano isolaccia io nei tempi che ci davano gli allenatori del comitato al primo giro cioè a 5 km a metà gara ero sempre anche in testa magari davanti a quelli che vincevano poi arrivare a 10 km perdevo un po' e quindi con l'avvento delle sprint avendo le doti di sprinter e lì ho trovato la mia il mio spazio ideale diciamo dove sono riuscito a dare il meglio di me tanto che nel 2007 giornata storica anche per l'Italia mondiale di Sapporo assieme a Cristian Zorzi vinceste il titolo iridato sì, quella è stata una grande vittoria la più bella della mia carriera però a livello, lo dico sempre a livello mio personale di approccio alla gara di forza interiore la vittoria che mi ha dato di più è stata la vittoria di un mese prima la prima vittoria che ho fatto che ho fatto sì in Coppa del Mondo un mese prima di quel mondiale in Russia perché la vittoria io non avevo mai vinto una gara di Coppa del Mondo avevo fatto qualche podio e allora mi sai la sprint partì in sei quando arrivavo al cancelletto avevi sempre un po' di timore reverenziale di quelli che avevi di fianco perché magari c'era non so Johnson o quello che vince o Norton e dice quel giorno che vinci che diciamo li batti tutti allora da quel giorno lì in poi quando arrivi al cancelletto hai un'altra consapevolezza consapevolezza e quello diciamo che è stato il passo che mi ha portato all'oro di Sapporo certo che ricordo hai di Sapporo? poi lì è stata una gara diciamo se hai le staffette sprint è una gara tutta un po' da vivere non si possono fare progetti prima o infatti anche con Zorro abbiamo fatto la semifinale poi gli svedesi sapevamo che quando ci sono le salite si stancano e infatti non sono passati neanche in finale poi c'erano i norvegesi c'era Etlan che li temevamo poi noi sapevamo che potevamo essere da medaglia come da sesto posto perché la staffetta sprint sono 6-7 squadre che se la possono giocare poi Etlan in quella discesa era davanti a me caduto che c'era neve molle pioveva e anche lì diciamo che quegli anni di sci alpino mi sono serviti perché c'era una curva abbastanza in velocità e la Norvegia fuori e quindi abbiamo avuto fortuna siamo stati bravi i materiali erano super perché anche nel mio ultimo giro si entrava nello stadio c'era tutto quel se non avessi avuto degli sci velocissimi non sarei potuto arrivare a dare il cambio davanti a Zorro e quindi i materiali perfetti un po' di fortuna noi due abbiamo corso perfettamente è arrivato l'oro Zorro nella spaccata è stato magistrale perché l'ha vinta per e quindi è arrivato l'oro e siamo stati contenti una gioia immensa ma tu dicevi che hai gioito di più per la tua vittoria individuale no diciamo che la gioia cioè ho gioito ho gioito la gioia immensa è il mondiale però a livello di consapevolezza a livello di 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 vantaggio su di me nelle gare dopo è stata la vittoria in coppa del mondo individuale perché da lì io ho cambiato approccio alle gare sia che alle gare sprint perché quando vinci poi tu arrivi lì dici io ho vinto perciò questi li ho battuti e posso batterli ancora invece magari prima tu hai accennato prima del timore riverenziale esiste e come anzi è fondamentale in uno sport di contatto quale appunto una staffetta una team sprint sì quello c'è sempre perché tu alla fine magari anch'io dico potrei superarlo però a Nortug a Oslo c'era Nortug anche lì io mi sono qualificato ho fatto il primo quarto di finale con lui e sai non è che avevo il timore riverenziale perché qualche volta l'avevo l'avevo anche battuto nelle sprint perché lui in certe gare però c'era lui a Oslo stava vincendo tutto in casa partiva di fianco a me io mi sono focalizzato su di lui sbagliando perché pensando che lui faceva lo scatto sai la sprint poi sono attimi mi sono messo dietro a lui e invece lui invece di far lo scatto là in quella salita si è fermato mi ha fatto un po' da tappo io sono rimasto se invece io mi fossi focalizzato sugli spazi sul tracciato su dove andare senza pensare a Nortung o uno o l'altro invece il fatto che c'è questo ti condiziona quanto è fondamentale soprattutto nelle gare sprint il materiale insomma non si può sbagliare assolutamente paraffina e voi avete avuto quasi sempre il meglio sotto gli sci a chi ti ha aiutato arrivare a vincere questo mondiale è stato anche un Fausto Bormetti da sempre Schimendera Nazionale ora non più però insomma un Fausto Bormetti da ringraziare sì 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 il materiale nello sci di fondo è diciamo il 50% perché poi può essere vero che nelle gare di Coppa del Mondo il livello è talmente alto che tutte le nazioni sono lì vicine però il vantaggio di avere lo sci che va è immenso in una gara perché tu sei al 100% fai fatica se lo sci è appena appena più lento sei già e tanti pensano magari che la sprint essendo 3 minuti 4 minuti magari tu pensi la 50 sta in giro 2 ore allora lì lo sci invece l'effetto è proporzionale però è fondamentale sia nella 50 che nella sprint sia Sapporo che quell'anno lì che ho fatto anche la vittoria in Coppa del Mondo tra gli ski men e poi proprio nelle parafine cioè nelle cere nello scorrimento il responsabile era Fausto Bormetti che è sempre stato diciamo un mago e ha sempre lavorato bene infatti in quegli anni lì noi come materiali eravamo sempre al top poi insieme a Fausto hanno lavorato tanti altri tecnici bravi che poi adesso per motivi per sbagliati motivi sono o stati abbandonati dalla federazione o magari perché c'erano delle teste che pensavano che lo sci non fosse così importante che si sarebbe potuto andare avanti anche senza l'esperienza di questi personaggi e sono stati messi un po' da parte io sto vedendo anche adesso che sono allenatore che ho tantissimo da imparare perché fare lo sci da atleta cioè sciolinare per affinare per fare allenamento o per fare la garetta che fai a casa senza la nazionale è una cosa ma fare gli sci e prepararli per far sì che lo sci sia il top è diverso quindi anch'io sto imparando tanto da Fausto e quelli lì che erano i miei ski men e anche da quelli che ci sono adesso che mi danno una mano certo certo come avete vissuto nell'ambiente lo scandalo dell'ammutinamento in pratica della nazionale finlandese pescati un po' tutti quanti per doping quell'anno dei mondiali sì io quell'anno lì ci giocavamo la qualifica per i mondiali di Lati ai campionati italiani di Sappada nella Spring perché poi a Lati c'era la Spring dove Zorzi è arrivato terzo mi sembra un secondo anche che ha preso la medaglia e lì in quel campionato italiano ero uscito era andato bene nelle gare di Stas ma nella Spring non ero non ero soddisfatto della mia ero uscito mi sembra in semifinale e non mi ero qualificato per i mondiali quindi la storia della Finlandia l'ho vissuta diciamo da casa e è stato uno dei più grandi scandali diciamo nel fondo perché c'erano sempre stati dei casi dei casi sporadici di doping però lì invece era proprio un doping cosa dire dispiace perché Lati che poi io ho avuto la fortuna di visitare di gareggiare in quella località anni dopo da come mi raccontavano Fabio Mai gli atleti che erano già stati prima Pillard con quello scandalo è stata una mazzata che non l'hanno ancora recuperata diciamo in termini di pubblico e di gente che va a seguirlo ci di fondo perché Lati era come Oslo c'era gente anche sugli alberi mi raccontavano per vedere le gare di fondo dopo quello scandalo sono passati anni che non c'era quasi nessuno e anche adesso pur vedendo un calo generale di pubblico le gare di fondo anche nei paesi scandinavi però lì è stato proprio una mazzata anche perché praticamente tutta la squadra Da tecnico pensi che si sia fatta una bella ripulissa nel mondo internazionale? Sì sicuramente quegli scandali lì quelle azioni lì contro il doping sono pur perdendo tanto pubblico però bisogna farle servono perché lì si dà un bel giro di vite però siamo anche consapevoli da atleta e da amante dello sport che che il doping è sempre avanti all'antidoping cioè è un dato di fatto quindi sta dopo dipende un po' dai mondi e soprattutto dal dal denaro che gira nel nell'ambiente presunto sta un po' all'atleta e al sistema non so a far crescere i giovani impostati in una certa maniera anche se è difficile perché la televisione non so i media ti portano a i sponsor stessi pretendono il risultato senza senza indagare come tu lo ottieni il mondo dello sport ti porta già da piccolo a dire o podio o medaglie o non sei nessuno allora uno cioè tante volte sentivo in televisione sai parte il telegiornale bel mondo solo quarta è vero cioè alle olimpiadi però se tu da atleta pensi dici bel mondo solo quarta ma quarta all'olimpiadi o quinto cioè significa che solo quarta chiaro che se sei abituata a una bel mondo una dicenta che vince che è sempre lì a medaglia solo quarta però da sportivo dici solo quarta sì 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 hai citato giochi olimpici e tu hai avuto l'opportunità di parteciparne a due sì a due edizioni ho avuto la fortuna di esserci a Torino l'olimpiade italiana poi sempre nella sprint e sono uscito ai quarti di finale mi sembra la prima batteria dove ho incrociato il vincitore e il secondo perché c'era l'inde da ragò ma questo non significa niente però erano sprint era ancora la sprint che ci si qualificava in sedici mi sembra a Torino e si partiva in quattro e passavano i primi due e ho lottato però la prima olimpiade in casa in Italia è stata un'esperienza fantastica l'unico rammarico di non aver potuto partecipare alla cerimonia di apertura a Torino perché la mattina seguente avevamo un test di qualifica per la staffetta sprint e quello mi è dispiaciuto perché la cerimonia di apertura è una cosa emozionante l'ho provata poi a Vancouver dove ho partecipato e è stato bello chiaramente poter partecipare a quella di Torino sarebbe stata ancora meglio certo un'olimpiade in casa è stata emozionante hai dei bian ricordi sì sì bello l'unica cosa bello perché c'è tutto il pubblico di casa e sei in casa e senti la tensione l'unica cosa diciamo l'unica differenza dall'olimpiade canadese che a Torino c'era il villaggio olimpico al Sestriere era un po' in quota quindi noi abbiamo vissuto l'olimpiade in una avevamo tipo una casa una casa con degli appartamenti che era giù a Pragelato eravamo lì solo noi della nazionale che va anche bene però poi a Vancouver abbiamo vissuto nel villaggio olimpico e è un'altra cosa lì vivi l'olimpiade vera perché al villaggio c'è un'altra cosa il villaggio olimpico è un'esperienza da provare certo e chi sa mai Renato che magari avrai l'occasione di seguire le prossime olimpiadi del 2018 in Corea seguendo magari il tuo fratello Fabio oppure qualche tuo atleta che stai allenando attualmente sì spero per loro per gli atleti che quasi sicuramente alle olimpiadi ci saranno perché il futuro è loro e quindi le Alpi Centrali sono sempre state il comitato più forte e continueranno ad esserlo perché se se riusciamo lo dico sempre se riusciamo a lavorare uniti a unire le nostre forze abbiamo delle realtà molto importanti a livello di sciclabe di organizzazione quindi se lavoriamo uniti è il comitato più forte e sicuramente anche gli atleti lo sono e ci sono quanti anni mancano tre o quattro anni quattro anni quindi i più grandi dei nostri sono juniors hanno vent'anni tra quattro anni ne avranno 24 hanno delle buone probabilità di esserci per quanto mi riguarda mi piacerebbe sarebbe una nuova avventura vivere un'olimpiadi d'allenatore però penso sia un po' presto perché credo di dover fare ancora un po' di strada per arrivare a un po' di gavetta ti emozioni quando corre tuo fratello Fabio che attualmente fa parte della nazionale sì sì mi emoziono tanto e ho provato sulla mia pelle ai mondiali di Liberace dove avevamo avuto dei problemi per la staffetta perché dovevamo farla poi non la facciamo le varie storie di squadra di convocazioni e siccome lui era rimasto fuori questo suo ho provato la sensazione di dire se fossi rimasto fuori io avrei sofferto di meno di vedere lui che non poteva farla insieme non so se mi so spiegato certo certo un amore fraterno e quando lo vedo gareggiare come l'anno scorso alle olimpiadi ero lì e ti favo volevo vuoi fare qualcosa ma non puoi è lì alla fine il fondo dopo è lui contro il cronometro e purtroppo non è andata molto bene l'anno scorso non è stato proprio il Pasini Fabio che che poteva essere per vari motivi e poi a fine stagione è riuscito ancora a ritrovare il suo livello ma ormai era un po' tardi però gareggia ancora e ci sono i mondiali a farlo noi speriamo che si qualifichi per per partecipare a quelli Renato siamo ormai in chiusura la tua ultima gara qual è stata? La mia ultima gara è stata la 50 km dei campionati italiani che abbiamo fatto a Riale due primavere no sì due primavere fa è stato molto emozionante perché la 50 km io lo ai campionati italiani lo sento pure essendo uno sprinter però l'ho sempre fatta e mi emozionava perché è una gara è una gara che è la 50 e la 50 poi in tecnica classica che è la tecnica che amo è stato bello all'arrivo poi c'erano tutti i ragazzi del comitato perché erano campionati italiani sai che li fanno segnore e giovani insieme e quindi è stato quasi come un passaggio sono arrivato all'arrivo e c'erano tutti gli amici tifosi anche loro è stato come se dalla 50 poi passavo nel comitato come allenatore insieme agli altri allenatori è stato bello benissimo grazie grazie Renato per queste belle emozioni che ci hai raccontato quest'oggi grazie ancora grazie a voi e vi aspetto sulle piste a fare il tifo per i giovani di Livigno e non solo e ci saremo certo è tutto per questa sera grazie ancora a Renato Pasini e vi auguro un buon proseguimento di serata buona serata grazie a tutti grazie a tutti